La cellula è l'unità fondamentale della materia vivente. I principali costituenti della cellula sia animale sia vegetale sono il nucleo e il citoplasma cellulare, che è la massa gelatinosa che avvolge il nucleo, a sua volta delimitata dalla membrana cellulare. Il nucleo è fondamentale per la riproduzione della cellula. Il citoplasma contiene una serie di corpuscoli e strutture che adempiano svariate funzioni come quella di riconoscimento di sostanze estranee o quelle legate alla reattività o alla trasmissione di stimoli fisici e chimici. Tra questi corpuscoli ricordiamo il reticolo endoplasmatico o ergastoplasma, i ribosomi, l'apparato di Golgi, i lisosomi e i mitocondri. Le cellule vegetali si differenziano per la presenza di una parete cellulare di cloroplasti, organuli che hanno il compito di svolgere il processo fotosintetico, e per i vacuoli, più grossi di quelli che compaiono nelle cellule animali. Grazie. 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 Grazie.